Lawrence Becks è il nuovo direttore generale dell'ICGB, il centro d'eccellenza per la ricerca scientifica nel campo delle biotecnologie. Accedere alla poltrona è stato Mauro Giacca, noto ricercatore che per anni è stato a capo della direzione dell'autorevole polo scientifico. Ora volerà a Londra nel prestigioso King's College, dove dirigerà un gruppo di ricerca per lo sviluppo di nuove terapie per l'infarto e dello scompenso cardiaco. Il successore Lawrence Becks, classe 1960, si è lavorato in microbiologia all'Università di Leeds, dove poi ha ottenuto un dottorato di ricerca lavorando sul virus dell'herpes. Dopo un post-dottorato a Londra, si è trasferito nel capoluogo Giuliano, dove studia la funzione di una proteina la cui mancanza causa la sindrome di Engleman, malattia genetica caratterizzata da un'importante disabilità intellettiva. Aspetto che il nuovo direttore generale porti avanti le attività del centro sulle linee che in qualche maniera sono state avanzate ed espanse negli ultimi 5 anni del mio mandato. Il CGB è un'organizzazione molto solida dal punto di vista economico, in completo rilancio di attività e in completo anche espansione con la creazione di due nuove sedi regionali, una a Panama e una in Cina. Quindi un'organizzazione che sarà diventata in questi 5 anni molto visibile a livello internazionale e quindi sono sicuro che il nuovo direttore generale saprà capitalizzare su quanto creato finora ed espanderlo ulteriormente. Questa mattina al MIB si è svolto il meeting annuale del Consiglio dei Governatori con oltre un centinaio di delegati da 60 paesi diversi. Tra le novità più importanti è la prossima apertura di una sede in Cina. Gli obiettivi rimangono quelli di utilizzare la scienza e la tecnologia come strumento di progresso globale e questo significa nell'ambito delle biotecnologie produrre farmaci con ingegnere genetica, produrre vaccini, significa produrre piante che possano contribuire all'alimentazione umana, significa estrarre energia dalle alghe o da altre sorgenti biologiche pulite.